Trova a ripartire dopo la sua velocità, Perez cerca il cartellino giallo per fermarlo e non lo trova E dove intornare di rigore, Beja! Stankovic! 1-0 Vittoria del Bologna, Ramirez non trova nessun compagno, allora in verticale Milito 1-1 Milito su Fritos Milito ancora rientra sul sinistro, Diego! Milito! 2-0, torna a gol Milito nel signore da 10 novembre Quarto gol in questa stagione, credo ci sia stata anche una deviazione Eto' va via Eto' in mezzo a due, lo recupera Garic, lo sfida ancora Eto' Ancora le finte di Eto' che guadagna metri, poi dentro il pallone speber Milito 1-2 Samuel! Eto' 3-0, uno splendido gol Samuel! Eto' 4-0 Il primo palo di Vaio la gira E poi Henry Cimenez per il 4-1